Il settore femminile è in continua crescita e ha bisogno dei suoi spazi e penso che sia giustissimo che abbia una sua partecipazione al trofeo Topolino con un premio in palio, per cui penso che sia giustissimo un proprio settore anche al rugby femminile che sta ottenendo ottimi risultati, lo dimostrano anche le ultime senazioni, per cui è qualcosa di importante anche per le regbiste. Ho visto che per il primo anno ci saranno anche le femmine, penso sia giustissimo anche perché le ragazze delle nazioni stanno dimostrando che sono le ragazze che portano i migliori risultati per quanto riguarda la nazionale, quindi penso sia giusto che anche loro facciano il Topolino.